a tutti e benvenuti su mio canale allora oggi nuovo video ma prima di iniziare con il video vi invito a seguirmi sui miei social qua è sopra impressione di fianco il solito videoclip se volete donarmi qualcosina per sostenere sia me che il canale prenderanno sempre di più sotto l'infobox vi lascio come sempre i miei soliti gruppi facebook nella mia pagina facebook se volete andate a dare un'occhiata per quanto riguarda lista amazon chain lo allevate da sotto l'infobox però ci sta la mia email quindi se volete farmi un pensierino regalino basta che mi contattate tramite mail poi vederò io come fare e se non sei scritto scritto il mio canale ti invito a farlo ad attivare la campanellina per non perderti i prossimi video futuri che farò e sempre se ti fa piacere condividere questo video nei tuoi vari social ok ragazze bando le ciance ciance le bande come avete capito dal titolo vedo un attimo la luce ecco forse vedete meglio all di temo allora però oltre all di temo ho messo dentro anche anche shane poi sono arrivati proprio oggi tutti i due pacchi cioè oggi che il 30 voi vedrete questo video molto più in là ormai a dicembre e allora su temo ho acquistato sei palette e dei leggings invece su sceno ho acquistato delle cose per diamond painting quindi due tele e un coso per attaccare va adesso ve lo spiego allora quindi vi faccio vedere partiamo con shane perché mi sembrava logico fare un video dei scene con tre prodotti e basta ho acquistato questo qui c'era sia viola che blu ovviamente vi metto sempre i prezzi tutto quanto per quanto riguarda i scene vi metto direttamente i codici invece temo il prezzo proprio perché non riesco a trovare i codici lì e allora questo qui serve sapete le tavolette quelle verdi che voi trovate comunque dentro alle tele no per mettere appunto dentro i diamantini che voi poco la pena andate a prelevare ecco esatto quella tavoletta lì noi la mettiamo qui sopra che così questo qui non si smuove cioè praticamente appiccicoso sia davanti che di dietro lo attaccate mettete la tavoletta almeno così la tavoletta non senza che la tenete con le mani oppure sta lì va andata prende diamantino dove si è esposta la tavoletta in casino e quindi mettete questo adesso un attimo loro aprire se riesco a ok eccolo qua ragazzi ovviamente vedete c'è sta la pellicola si è bello appiccicoso quella la parte davanti e anche dietro in effetti pare tipo una gomma però molto molto bello e l'ho voluto prendere blu adesso lo rimetto qui dentro poi lo tirerò fuori quando farò le tele allora vi faccio vedere intanto la prima tela però levo il telefono dal cavalletto ve lo faccio vedere un po più dall'alto perché se non così non vedrete niente ora la prima tela è questa è un 30 per 40 veramente bella adesso ve la faccio vedere meglio praticamente sarebbe ariel la serenità ariel fatta in questo modo mi piace veramente un sacco mi aveva colpito molto guardate quanto è particolare anche il braccio nel seno nell'orecchio l'orecchino non so se pare sembrano fluo non so se ci sono diamantini fluo perché esistono quelle tele che si illuminano al buio questa sembra ma non credo però aiuto scusatemi quindi insomma questa qui è la prima e questi qui sono appunto i suoi diamantini però mi sembrano classici quindi non credo che si illuminano insomma al buio quindi questa è la prima tela adesso vi faccio vedere l'ultima cosa dei sieli perché ho conquistato solo queste tre cose un'ultima tela ragazzi questa è veramente stupenda è un 30 per 80 ci sono tutti i felini c'è guardate quanto è fatta bene guardate leone allora abbiamo appunto leone il puma il leopardo la pantera la tigre siberiana bianca la tigre vabbè quella classica e il ghepardo è veramente stupenda appena l'ho vista me ne ero innamorata poi ho visto le recensioni che era fatta veramente bene in effetti è così molto molto bella e niente ragazze queste qui sono le cose che ha scusatemi questi sono i suoi diamantini e sono arrivate dentro alle bustine che queste fanno sempre comunque comodo e quindi queste sono state le tre cosine conquistato da shane e basta e adesso passiamo a tema ragazzi allora cominciamo con temo con temo ripeto sono solo sette cose quindi sei palette e dei leggings adesso vi faccio vedere questi prima dopo in caso se non riesco a far vedere bene nella ripresa qua vi metterò una foto di come nel sito presone xl e sono veramente belli questa è la parte della vita sono neri e leopardati con la macchietta fucsia invece che solito marroncino ecco le farfalle e questa per esempio tutta una gamba non li sto fa vedere indossate ragazze e questa è tutta una gamba è veramente bellissimi e finiscono praticamente così sono leggerini però vabbè però sono molto dovrebbero essere molto comido ancora non l'ho provati è veramente veramente belli prossima volta prenderò un altri che sono uguali identici neri con l'opardo però è nero e c'ha la macchietta marroncina classica però non c'ha le farfalle questi qui è veramente belli mi piacciono tanto poi comunque sono belli vedete elasticizzati e quindi questi e poi adesso vediamo veniamo al succo del video che non vedo l'ora di farvele vedere no vabbè sono queste bellissime sei palette veramente veramente pucciose che già vi ricordate ne avevo prese tre di un'altra ditta dell'altra serie sempre su temu dove c'era appunto l'aquilotto sempre l'unicorno e la volpe tipo questa allora ragazze però ho fatto caso una cosa che su temu adesso su queste qui vi metto i prezzi però ho fatto caso che tutte le palette dove ci sono i shimmer insomma queste cose queste palette qui c'è scritto proprio aspettate se non mi ricordo ve lo scrivo qua no esaurimento scorte insomma che sono proprio esauriti ma ho fatto caso proprio tutte le varie palette belle fighe questi vari shimmer belli potenti non ci sono più io ho saputo che le verranno quando non lo so non so se te già l'hanno fatto le verranno tutti glitter paillette per quanto riguarda le unghie io non so se dopo sta cosa andrà a finire anche per le palette dato che ci sono i glitter anche lì non so se le verranno anche le palette qui glitter non lo so spero di no per lì vabbè non lo so se qualcuno di voi sa questa cosa se mi può commentare sotto va bene andiamo avanti allora questa è la scatolina intanto la apriamo guardate quanto è bella questa è della volpe è bella anche il colore qua color full rainbow che tutto colorato dietro vabbè fatte così non hanno lo specchio hanno il disegnino qua e questa c'è la pellicola e questi sono i suoi ombretti veramente stupendi ci sono due matte restanti tutto shimmer o satinato ovviamente li sbucciamo anche insieme sbucciamo i due matte e poi comunque queste confronto a quell'altra che avevo preso quelle tre sono molto più resistenti la la carta sembra molto molto buona e anche la pellicola è abbastanza insomma duretta mi piace veramente tanto perché sono fatte veramente bene a questi sono i due matte eccoli qua direi che non sono male questo vabbè oltre che bianchino sempre per la base ma comunque se vede questo stop top si vede benissimo mi sono scordata di prendere la salvitina aspettate i matte allora quelli potenti vi sboccio sempre quindi usciamo questo oro ovviamente 4 quindi 1 2 3 e questo macchiato 4 dai eccoli qua bellissimi allora wow 1 2 3 e 4 aspettate questo qual'era aspettate 1 si questo questo rosino che si vede un po meno però sono molto belli questo qui potente proprio ci guardate che il dito come mi è rimasto questi sempre con i scimerini ma orate trova se lo vedete meglio qui ma comunque belli tutti e tre anche questo rosino molto delicato no vabbè bellissimi eccomi qua ragazzi quindi questa è la prima palette che poi lo fa vedere anche le immagini che di sfondo che comunque prendono vedete qui la volpina riprendono lei così anche le altre palette ecco qua ok mettiamo dentro la scattolina quindi la prima palette l'abbiamo viste ed è questa la seconda abbiamo l'aquilotto aspettate che questo è un po' durezza da levata a scatola ok fate conto è carina cioè è bellissima qui il solito disegno e questi sono i suoi ombretti vedete qua ha disegnato appunto l'aquilotto no che riprende appunto il pack questo è bellissimo che è un marrone pare sia natalizio che autunnale con glitterini rossi gialli e verdi qui abbiamo un solo matte che questo è un po' satinato questi due questo è un po' di meno di questo restante scimmere eccetera vabbè sbocciamo questi tre satinati dai vediamo questi che hanno leggermente un po' dei glitter che poi non sembra bello suo arancione 123 oddio non sono sbagliata ma questo non si vede per niente aperta uno cioè questo rosino qua non si vede proprio lieve lieve questo quindi lo utilizzerò come base qui non manco sembra che c'ha i brillantini questo qua quindi potete utilizzare benissimo come sfumatura questo qui è bellissimo questo arancione bello poi per quanto riguarda i shimmer quelli potenti sempre allora mi do una botta quindi ovviamente questo poi questo qui macchiato bellissimo che è un 2 quindi lo miscelato insieme poi facciamo 3 e poi facciamo 4 wow questo è bellissimo questo miscelato rosa e bianco 1 2 wow 3 e 4 allora questo è stupendo sempre con va ovviamente con dei primer ma guardate che c'è tutti sti verdi rossi le paillette bellissimo questo è una bomba ragazze questo mi piace da morì è a metà rosa e metà bianco come qua dove fa un dual chrome due ombretti questi altri due pure molto molto belli ma questo è fantastico bellissimo proprio quindi questa era la seconda palette poi passiamo alla terza che ricce ovviamente le scatole già le levo per un perdetempo no vabbè che colori è veramente stupenda bellissimi pellicola questi ragazzi sono veramente belli guardate questo che c'ha come paillette le stelline guardate no vabbè adoro questo pure bellissimo qui invece abbiamo 1 2 3 4 5 6 matte e restante sempre 6 shimmer insomma quindi sbocciamo 4 matte 1 2 lo faccio anche sto bianco va 3 4 eccoli qua 1 2 3 4 beh mi piacciono belli questi qui questo con malva questo qua donna il bianco pure si vede che comunque se può utilizzare come base e anche questo rosino qua molto molto delicato potete utilizzare anche quello come base molto carini adesso andiamo a sbocciare shimmer allora vi sboccio uno questo salutissimamente verde bianco messa che dall effetto rose bianco come peraltro questo con con le farfalline e questo qui figo che è un rosso in viola insieme wow belli vabbè 1 2 3 e 4 wow bellissimi bello questo rame guardate quanto è luminoso questo è quello macchiato verde bianco che pare menta guardate qui che qua c'è sta dove la la stellina no vabbè adoro è bello anche questo che sarebbe questo qui tra pare un rosso in fucsia non so un bordeaux no vabbè no vabbè bellissime oltre i pack sono proprio belle perché i pack è pure belli no tutto l'esterno come fatta la palette ma gli ombretti dentro altrettanto stupendi passiamo alla quarta palette questa qui con questo draghetto che veramente cucciolino con l'uovo che sta dentro all'uovo un draghetto dinosauro me sembra un draghetto allora leviamo la pellicola questi sono i suoi ombretti questo bellissimo belli anche questo guardate macchiato così questo qua c'è veramente stupenda qui abbiamo solo due matte restante shimmer quindi intanto sbocciamo i matt eccoli qua non sono male questo si vede un po di più parte che ora sono umida sotto però mi piacciono sembra salgettina ok poi ovviamente shimmer questo facciamo uno quelli che mi colpiscono di più 23 questo pure stupendo anche questo me sa molto luminoso questo qui eccoli qua uno questo è bellissimo 234 wow allora questo è veramente bello che poi ce l'ho come gel color porca miseria non so se nota tanto si guardate riflessi come gel color dei passini unghie allora di base trasparente ma tutti questi riflessi arcobaleni di tutti i colori c'è ragazzi è una roba c'è dal vivo una roba stupenda non rende tanto del video me sa eccoli 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 vedete ecco eccoli wow bellissimo questo molto bello pure che il macchiato di qui no che è questo qua questo che questo qui si vedono tutti i due colori tra un fucsia non so un porcora un rosso e quest'altro bello ma aspettavo un po di più però sono curiosa perché qui vederlo pareva bello luminosissimo invece è normale tranquillo però sono curiosa un attimo di sbucciare questo scusatemi eh ma wow vediamo eh ce l'ho voglia di sbucciare questo bellissimo questo anche come illuminante stupendi però bellissima anche questa palette poi abbiamo questa ragazze guardate quanto è bella l'unicorno palette dell'unicorno è stupenda lo adoro è veramente bellissima l'amo qui infatti c'è stato tutti i unicornini quanto è carini questa pure bella guardate questo che è un rosso e c'ha delle paiettuzze verdi no vabbè bellissima qui però non abbiamo nessun matte abbiamo questo che è satinato ma lo potete utilizzare come come matte perché non si vedrà appunto i brillantini immaginavo ecco vedete che poi non fa tanto ma come base lo potete utilizzare praticamente va bene anche se non c'è matte non ci interessa che se può prendere una palestra da quest'altra che ho fatto vedere o da altre palette che abbiamo allora andiamo subito 1 2 3 e 4 questi con l'indice non ce li faccio mai prenderli bene eccoli qua a 1 wow stupendi questi 2 3 e 4 mamma mia allora qui rimangono un sacco è bellissimo ragazzi vedete il rosso e tutti questi altri brillantini verdi sto viola che è metà viola metà bianco stupendo ragazzi stupendo veramente e questi altri due molto molto belli no vabbè bellissima anche lei stupenda questa è la sesta ed ultima non perché meno importanza ma veramente bellissima anche questa guardate di questa pure sono ammorata dei pack di base nero questa giraffina stellina col pom pom qua no vabbè bellissima pure queste molto belle queste proprio wow non so se lo percepite ma è bianco e c'ha questi riflessi sul verde e il viola è una roba bella un bel po' qui abbiamo do matt questi sempre satinini e shimmer dai vi sbuoccio questi due matt qui e questi due satinati che sono belli a vedersi ecco questi almeno se vedono i brillantini non come con altri non è che se veda tanto 1 2 3 4 allora questi sotto i brillantini della polverina di sotto però non si vedono qua è un pochino sì qua un pochino però belli anche questi dei matt mi piacciono poi belli questi macchiati sono una figata perché ho notato che avete visto anche con le altre palettine che fa l'effetto metà di un colore metà di un altro stupendo allora questo ovviamente questo ovviamente facciamo aspetta che non li voglio fa uguali 1 2 questo verde che non abbiamo sbucciato e dai questo che è macchiato wow guardate che riflessi scusatemi 1 1 oh madonna no 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 aspettate un attimo ragazzi inciutto ma è una roba del genere ah fa male agli occhi fa male agli occhi guardate pare ultravioletto no vabbè ma che cosa stiamo parlando pare ultravioletto ragazzi guardate che roba guardate le basi trasparenti a queste paetuzze un po' più grandi che vanno sul verde con le scagliette lì la viola questo stupendo è un corallo vedete che va ha tutti i due colori di questo verde e fucsia bellissimi bello questo stupendo ma no questo vabbè adoro bellissima eccomi qua ragazzi vi lascio appunto con l'ultima palettina questo è stato il mio video per quanto riguarda temo e shane spero che vi sia piaciuto se è stato così mettete un pollice in su e fatemi sapere quale di queste palette vi ha colpito di più i loro ombretti queste sei che così vi farò un video o anche più di uno di ogni singola palette se mi dite guarda greta fai video su tutte le palette o prima faccio un video di una poi di un'altra non c'è problema o se no mi dite quale vi ha colpito di più di queste sei io vi ci farò un make up non c'è nessunissimo problema io ragazze vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao